Benvenuti sul canale Causa da Leggenda, qui abbiamo il solito generatore di impulsi a scarica capacitiva, la solita bobina d'auto. Qui abbiamo un alimentatore che serve ad alimentare il filamento di un tubo di college, il tubo di college genera raggi X. Il filamento è formato da un filamento che è alimentato da questi conduttori qui, poi da un anodo isolato. Il filamento spara degli elettroni che picchiano all'interno dell'anodo dove c'è una piastrina di tungsteno e in quel punto si generano raggi X. Ora questo è un sistema sottoalimentato, in realtà questo tubo funziona con 50kV, 50.000V di anodica. Ora gliene buttiamo solamente un 15-20.000V. Allora, accendiamo il generatore di impulsi, come sentite. Qui abbiamo il solito Geiger che è già acceso. Allora, adesso lo metterò vicino al telefono. Come al solito. Ecco. Allora, come vedete, lo tengo con le mani però non ho sentito i disturbi dell'alta tensione. Non succede niente. Ora, io aumenterò la tensione che adesso è bassissima e la porterò a... 3,2V ad esempio. Come sentite, solamente avvicinandosi qua, si sentono le scariche dei raggi X prodotti. Ora aumentiamo ancora un pochino. La tensione. Come sentite, sono molto aumentati, si sentono fino a questa distanza. Diminuiamo la tensione perché è così esagerata. Ci teniamo comunque sui 2,5V di filamento. E così ne abbiamo molto pochi. Torniamo a... 3,5V. 3,5V. E ne abbiamo tanti. Bella ragazzi, vi saluto.